Abbiamo intervistato per Videonews la dottoressa Barbara Capponi, assessore a Civitanova Marche, con deleghe al welfare, politiche sociali, pari opportunità, educazione, istruzione, progetti speciali per l'infanzia e l'adolescenza, prevenzione sanitaria e cultura della salute. La Capponi è già una psicologa affermata a Civitanova Marche, assistente alla maternità, coordinatrice in centri per l'infanzia, assistente scolastica ed è nota ovviamente per i servizi sociali, la sua collaborazione con varie associazioni di volontariato e con lo sportello in forma donna di Civitanova Marche. Queste le parole dell'assessore Capponi, tutti i settori sono degni di attenzione, lavoro, programmazione, risorse, c'è una grande differenza però per i settori storici in cui l'impegno consiste nell'affiancare a servizi già in essere nuove iniziative o dare nuove prospettive a quelli le cui deleghe sono nuove. Nella fattispecie mi riferisco alle deleghe alla famiglia, all'infanzia, all'adolescenza e alla prevenzione pediatrica. I primi mesi di questo 2018 saranno dedicati ad un'osservazione minuziosa della realtà che avvolge i bambini per una pianificazione intelligente dei prossimi progetti. L'ambito della prevenzione pediatrica necessiterà di un monitoraggio dettagliato di molteplici aspetti e coinvolgerà molti attori. Lavorando in tal senso, ha detto ancora la Capponi, abbiamo a cuore quanto prima l'apertura del centro famiglia nella nostra città, una nuova realtà che deve fare da legante tra i membri della famiglia e la stessa, con l'obiettivo di creare una rete di pari che sostenuti dall'amministrazione diventino risorse a vicenda. La Capponi ha spiegato in particolare questo concetto che stiamo andando avanti per la prima volta a Civitanova, cioè il concetto di città con l'infanzia e non per l'infanzia, ribadendo l'esigenza di avere una città che sia a misura di tutti, perché dove la città è in grado di accogliere un bambino vuol dire che può accogliere chiunque. Una città con l'infanzia, ha detto la Capponi, è una città dove c'è sicurezza, lavoro, attenzione al sociale e all'infanzia, ma non solo. Per quanto concerne le pari opportunità, ha affermato la Capponi, abbiamo iniziato con un convegno offrendo un progetto a tutte le scuole che hanno voluto partecipare e per i servizi sociali. Abbiamo nuove iniziative per la disabilità e la povertà e stiamo lavorando ad una solida rete di supporto con tutti gli altri attori e in particolare con le associazioni di volontariato.